let's go butchess e benvenuti a questo video sulle tre spade esotiche in questo caso questo video vi servirà a voi guardiani per decidere quale spade esotica prendere o se comunque ne avete già una come usarla al meglio comunque dove usarla e se ne state per prendere un'altra quale scegliere tra le due rimanenti allora in questo caso voglio ringraziare l'ikos e pelle che mi hanno prestato il loro gameplay per poter fare comunque questo video quindi un grazie a loro e iniziamo subito a parlare delle spade di quello che le caratterizza che comunque l'attacco con r2 in questo caso sul mio joystick con la mia impostazione dei tasti ed è quello che comunque cambia da una spada all'altra e le rende diverse tra di loro ma simili comunque in quello che possono fare ci sono alcune migliori per il pvp alcune per il pv e altre meglio per i boss altre invece per i pack di mob eccetera eccetera partiamo subito con la lancia fulmini che è la spada esotica d'arco questa spada d'attacco con r2 a distanza molto forte perché quando impatta diciamo la lama d'arco che lancia questa lama lascia praticamente una sorta di nuvola di fulmini con cui si possono fare danni a o e che rimane lì per un pochino di tempo fa un danno modesto secondo me rispetto alle altre spade molto inferiore rispetto alla mangia tenebre alla sputafuoco ma è ottimo questa è un'arma che può essere usata in pv per i boss per quelli a cui non si può stare vicino che fanno degli attacchi mili forti che rischiano di shottarvi per quanto riguarda invece il pvp è una delle più forti secondo me perché può colpire a distanza e lascia questa nuvola per quel secondo che dura che può bloccare i nemici quindi e ovviamente ferirli e sputtarli passiamo subito alla seconda spada e in questo caso parlo della sputafuoco che come vedete sto usando il mio cacciatore la sputafuoco è un'arma da burst dps fa un danno elevatissimo burst dps vuol dire che voi con un attacco singolo di r2 farete una sorta di uppercut perché si chiama così uppercut solare un attacco verso l'alto uno slash quindi è mili ragazzi ricordate questo non potete colpire a distanza eccetera ma è mili dovrete stare attaccati questo è il danno più elevato di tutto il gioco secondo me è l'arma che fa il danno più elevato di tutto il gioco è incredibile quando dovete shottare dei mob gialli o con lo scudo è fortissimo perché non solo gli leva lo scudo li manda quasi in one shot con un attacco di r2 e anche se non è ovviamente della propria del proprio elemento ma oltre a questo li stunna anche quindi avete il tempo di fare un altro attacco e shottarli istantaneamente quindi questa è una spada per chi vuole prevalentemente spaccare i mob gialli in questo caso perché i boss da vicino fanno molti degli attacchi mili che rischiano di shottarvi per quanto riguarda il pvp è utile sì io ancora non ci sono riuscito a fare determinate cose ma la trovo veramente forte perché questa spada può shottare un titano mentre è in come si chiama nella modalità martello di sol o anche mentre sta per fare lo splash del titano quella di assaltatore quindi è veramente forte perché basta fare un r2 per shottarlo quindi anche se è inarrestabile quindi sì questa per chi la vuole usare per questo determinato tipo di gioco di gameplay comunque ve la consiglio è veramente forte i suoi danni sono incredibili passiamo subito all'ultima spada esotica in questo caso parlo della mangia tenebre quella da vuoto l'ultima rimasta e secondo me una delle più forti è quella che io sto cercando di prendere ora con il mio secondo pg che se avessi saputo che faceva queste cose avrei preso col primo quindi per chi ancora non l'ha presa prendetela prendete la spada da vuoto allora perché la spada da vuoto è così forte? per tutto come quella d'arco ha la possibilità di parare in pvp sia il martello di sol che comunque è fortissima e one shotta sia la possibilità di parare un colpo di pistola d'oro oltre a questo può parare una lama danzante e quindi vi consente di parare il colpo e poi di shottarlo oltre a questa cosa l'abilità più forte comunque della spada vuoto è l'r2 l'r2 fa una sorta di slash in avanti quindi di scatto in avanti e poi fa mulinare la spada intorno a sé questo quando mulina la spada intorno a sé praticamente il personaggio diventa immune vedrete una sorta di aura bianca intorno al personaggio è fortissima questa abilità perché se usata col timing giusto potrete salvarvi da un'abilità che vi può uccidere o comunque mandare one shot e in questo caso salvarvi anche nelle situazioni più critiche andandovene via di r2 oltre a questo ha un raggio veramente ampio e quindi per shottare mob è veramente utile pure se andate sotto a un boss spammate questo attacco con r2 e se siete bravi a comunque avere il timing con l'attacco del boss riuscirete a non prendere danni io spero vi sia piaciuto questo video e che sceglierete ora quale spada esotica prendere in base alle vostre preferenze o quello che ci volete fare con queste spade esotiche io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video fatemi sapere se vi è piaciuto questo video sulle spade esotiche let's go